Bene, ecco a voi come sapere dove trovare tutti i Pokémon che voglio Allora, andate nel menu principale Poi andate a Pokédex E... Il Pokédex di Alole Per il Pokédex di tutto Poi se volete cercare in una certa isola Allora fate così e cliccate E... Vi apparirà questo La scorsa volta ci ho provato con Geridos Che non ho trovato perché è stra-raro Però il punto lo dice Allora, ve lo mostrerò con qualcosa di facile da trovare No Qualcosa che non nota Vabbè, scendiamo Vediamo se vado di qua ci sarà qualche Pokémon più facile Lui sa dove si trova Quindi, no Ah, Machamp è raro Però, vabbè, ci vado dopo Però Per ora ve lo mostro con un altro Eh... No, vabbè, lui credo che non sia proprio facilissimo da trovare No Veshi washi Vediamo ancora qualcosa di più facile Magari Ah, il punto di domanda non vi dà nessuna informazione E quindi non ne vale la pena premere tanto Vabbè, questo sembra facile da trovare e non ce l'ho Quindi Ci cliccate sopra Poi fate Habitat Vive su un'altra isola R Vive... Aspetta un attimo Potete scorrere anche da qua Premendo R O L R avanti L indietro Isola 1 sarebbe Questa Poi 2 Ecco E ve lo mostra Questa è a Cala Vediamo sulle altre isole Quindi vive su Ula Ula E a Cala Qui ci sarà più erba Quindi probabilmente Ci sarà Allora Ah, là Vediamo un attimo Nell'altra isola Se magari Ah, qui è più facile invece Allora Vi dimostro subito Aspetta Che isola era Che Ula Ula Che è in questo punto Allora Ah, ok Ula Ula Questo posto Qualunque sia Vabbè Fa lo stesso Ci vado subito Con Chalizard Certe volte Quando combatti Con un Pokémon Che non hai Allora Si registra Così Però Non sempre Perché Se no Allora Io avrei Già Chalizard Allora Allora A Cala Ula Ula Ecco qua Qui piove Ah, qui piove Penso che non piovesse Da nessuna parte Eccoci qua nel percorso Che mostravo Ah, una Pokéball Grande fungo Qualunque cosa serve No Questo qua Ce l'ho già Mi sembra Questo lo fa Ah, vero Vabbè Io lo faccio fuori Sto qua E' super facile Se mi toglie Qualcosa Quasi niente E' questo fuori gioco Curiamo anche Renoir Così è più forte Nella prossima battaglia Ah, certo Se piove E' bagnato Bene Non gli do Niente Ecco Già direttamente Un altro Pokémon Vabbè Questo non ce l'ho Non c'ho già direttamente La Pokéball Perché in Crenor Tutte mosse che L'ucciderebbero In un colpo Quindi lancio subito Una Pokéball Resisterà Uno Due Tre Preso Ottimo Panca Cos'è una panca Corriamo di nuovo In Crenor Ah, vero Una volta Ci ho lottato Con sto tizio Avanti Bene Adesso Asciughiamolo Lo troviamo qua Un altro Un altro che non ho Ma almeno Questo video Mi sta Mi sta Regalando Qualche Pokémon Reggerà Chi lo sa Uno Due Tre Catturato Al primo Colpo Vabbè Stavolta No, vabbè Sì Lui è un tipo Fuoco Quindi Meglio Meglio Asciughiamo Di nuovo La mano Di In Crenor Cerchiamo Ancora In Sterba Alta Vabbè Di nuovo Lui Ma Chi se ne Frega Vabbè Tanto Io Faccio Fuga Tanto Un po' Di Un po' Di punti Per il Nivello Successivo Di In Crenor Allora Quello È Raro Quanto Pare Perché Non è Ancora Apparso L'Erian L'Erian Lo voglio Far fuori E vai E vai Non gli fa Niente E questo è fuori Gioco Almeno Qualche Almeno Qualche Punti Punti Esperienze 224 In un colpo Wow Ottimo Vabbè Passiamo Avanti Ma Cos'è Cos'è Questa Cosa Nera Vabbè Io sto qua Lo faccio Fuori Vabbè Il video Volendo Lo potrei Concludere Anche Ora Se voglio Lo potrei Concludere Anche Ora Perché Guardate Poco fa Io Quello Pokémon Che era Panca Cosa Vediamo Che Che punto Mostrava Se mostrava Questo Punto Che Diceva Anche Che si Poteva Trovare Anche Qua Allora Dovrebbe Poter Allora Allora Andiamo Il Pokédex Pokédex Dialogue Ah E vai 19% Non sono Arrivedo Ecco Visto Questo Che l'avevo Catturato Adesso Habitat Vive Su un'altra Isola Isola 2 Vabbè Ecco Qui Qui Ci siamo Noi Ed ecco Mostra Gli stessi Posti In cui Noi L'abbiamo Trovato Il video Credo Che Lo concluderò Qui E Tanto Cosa C'è Da Mostrare Il Tanto